Paura in piena notte tra sabato e domenica per un incendio divampato al civico 139 di via De Frentani a Chieti. L'allarme è stato dato da alcuni vicini che udite le richieste di aiuto dall'abitazione hanno avvisato i soccorsi evitando così la tragedia. All'interno dell'abitazione dormivano Alessio Cherubini e Tiziana Placido usciti in lesi grazie all'arrivo imminente dei vigili del fuoco. L'incendio divampato dall'esterno per poi in pochi secondi invadere l'interno. Le lingue di fuoco escono dalla finestra che danno sul balcone. Mogli e marito che dormono al piano superiore si rifugiano nella manzarda in attesa dell'arrivo dei pompieri. Ad indagare la polizia scientifica che giunta sul posto ha effettuato alcuni sopralluoghi acquisendo materiale scattando foto allo scopo di verificare la presenza di eventuali tracce di liquido infiammabile. Marito e moglie, lui romano, lei di Chieti sono entrambi consulenti finanziari e nella mattinata di ieri sono stati ascoltati negli uffici della questura di Chieti per cercare di scavare nella loro vita privata. Infatti, secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state appiccate dall'esterno, forse per mano di qualcuno. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini di due telecamere posizionate sul balcone al primo piano dei coniugi e puntate verso l'ingresso della palazzina. La casa, che non ha problemi strutturali, non è stata sequestrata.